Oggi abbiamo presentato una ricerca in cui mettiamo insieme alcuni dati a partire dal pensionamento dei medici di medicina generale che raggiungerà l'apice purtroppo nel 2023 e nel 2024 e la situazione è già grave oggi con 586 zone carenti, che vuol dire territori che non hanno il medico di medicina generale. E l'altro punto è l'invecchiamento della popolazione. Più anziani ci sono e più anziani ci sono che si rivolgono tanto al medico di medicina generale perché i giovani lo fanno di meno ma gli anziani lo fanno di più. Quindi servono interventi subito ma anche di medio periodo. Serve immediatamente riprendere il percorso delle medicine di gruppo e delle medicine di gruppo integrato che è stato abbandonato negli anni, mettere insieme i medici per dare una maggior copertura oraria e per consentire loro di gestire un numero di assistiti più alto. E serve investire nei cosiddetti micro team, cioè là dove i medici, perché magari il territorio è montano o c'è poca popolazione, sono medici da soli, è necessario affiancare loro una figura di personale amministrativo e un infermiere. Quindi tre persone perché vuol dire togliere al medico tutta la parte burocratica e consentigli di concentrarsi sulla parte medica. Serve farlo subito, serve tenere alto il numero di borse di studio, almeno 600 nei prossimi due anni, servono investimenti sulla modernamento tecnologico che anche questo contribuisce a sgravare dagli impegni i medici e farli concentrare sulla parte di medicina. Quindi servono interventi concreti che noi chiediamo da subito alla Regione Veneto. È un lavoro che seguiamo da tanto tempo e finalmente abbiamo depositato questa proposta di legge che è statale perché di competenza statale si tratta. Verrà spero presto discussa anche a livello regionale appunto per poi approvarla o quantomeno discutere a livello statale. Perché? Perché la medicina territoriale deve essere anche attrattiva. Noi abbiamo un problema enorme che è quello anche dell'abbandono da parte dei medici che si iscrivono alla formazione per medicina generale appunto di questa scuola. E quindi per renda attiva abbiamo fatto questo proposto che prevede da una parte la qualifica uguale agli altri colleghi che fanno altre specialità sia nella rinumerazione e quindi la borsa di specializzazione sarebbe più come quella attuale di formazione di 800 euro mensili ma sarebbe 1500 e quindi insomma per un giovane laureato è importante. Dall'altra parte anche la possibilità di qualificare questa medicina come tutte le altre come fondamentale per il territorio in questo caso con prospettive di carriera e soprattutto con la formazione che non sarà solo universitaria ma anche di specifica fatta dai medici esperti del territorio.